Lo so perché ce l'hanno tutti, anche gli altri che avevo comprato l'avevano. Ma che cosa c'hanno? Lano! Che secondo lei mi metteva a dire a lano? E lei l'ha detto! Ma che mi metteva a dire se tiene tutti i pezzi! Ha capito? Ma è logico che c'hanno tutti i cani, c'è a lano e la razza, tutti la roba! Non c'è nemmeno voluto! Allora da quella lano grande grande son passato a quello piccolo piccolo! Chi è quello? Il Civas! Il più piccolo! La bella buttegna è il Civas! Ma se si è scordato, signor, che è Civas? Sì, quegli occhi un po' a palla! Eh, bravo! Il Civas! Ma che è Civas? Si chiama Cihuahua! Il Cihuahua! Il Cihuahua! Il Cihuahua! Ma no! Ma che? C'è mio marito nello studio! La smetta! Mi sta perforando con quello sguardo! Con quel pizzetto! Ma quale pizzetto? Il Cihuahua! Il Cihuahua! E dal Wawa! Ma che Wawa, mica sto facendo la canzone! Ma mi faccia il Wawa sul Wawa! Ma che Wawa, Cihuahua! Quello si chiama così il cane, Cihuahua! Il Cihuahua! Il Cihuahua! Ma chi le c'è i piccerilli? Se leva un Wawa non si vede proprio più! Il Cihuahua! Un altro piccolo! Eh? Un altro piccolo che gli ho preso è quello lì, la cosa? Che è? Quello che ti danno il resto! Ti danno il resto? È un piccolo Carlo! Un piccolo Carlo! Il Carletto! Il Carletto! Il Carlino! Il resto del Carlino! Il resto del Carlino! Si chiama Carlino, non danno il resto signora! Invece il giornale! No Carletto! Poi gli ho preso, come si chiamano lo slip? Lo slip addirittura? Si! Lo slip maschile! Il boxer! Boxer! Ma non è lo slip, è un cane! Si si il boxer! Quell'altro che fanno, il 3 e 4 quanto fanno? Il 3 per 4! Eh no te! Eh? 3 e 4! Sette! Quello! Un setter! Si! Signor ma manco sette riesci a dire! Per lo meno che ci ha giunto solo aere! Ma dopo avergli preso lo scialle! Eh? Lo scialle quello tutto bello, capelli freddo! Lo scialle quello tutto piegato! Lo sciarpei? Lo sciarpetta! Non è la sciarpetta signora! Non è la sciarpetta signora! Il cane! A un certo punto ho detto, non ce la faccio più! Eh manchi io! Voi ti porti un bello spinello! Braa! E ce l'ho muovo così! Eh diamine! Carissima! Lo spinello che sarebbe! Lo spinello che sarebbe! C'è neanche con lo spinello che calmi! Certo! Il cane della narcotica sarebbe lo spinello! Lo spinello è quello tutto! Arrotolato che si fumo! Si fumo! Ma chi è che si fumo i cani? Ma chi è che si fumo i cani? E se fumo i cani? Ma chi è che si fumo i cani? Ma chi è che si fumo i cani? Ma chi si fumo i cani? Signora! Devono essere fumatori accaniti proprio! Eh si! Mamma mia! Che diamine! Eh! Eh! Anche volendo! Anche volendo! Come si fa a fumare un cane? Per la coda suppomma! E c'ha piccio pomus! Non lo so! E quello è cretino il cane! Non se ne va! Non lo ha fumato! Rimane così! Comunque non litighiamo dottore! Eh non litighiamo signore! Nessun cane è andato in porto! Ha sbagliato semplicemente il nome! Quello che ha preso non si chiama Spinello che è nata cosa che è familiare! Si! Quello si chiama Spinone! Lei? No! Quello è il padre quello che dice lei! O Spinone! Si! E lei che ha preso? Il figlio! O Spinello! Si! Mi teneva la mamma! Come si chiamava? Aspina! Si l'ho vista! Aspina sarebbe il cane da presa! Bravo! Nella presa! Perone è un imprenditore! Complimenti! Grazie signore! Ah! Ne capisce tanto! Ne capisco! Cioè! Mi piacciono i cani! Non è che ne capisco! Perché non ha fatto il veterinario? Eh! A fare il medico alle persone! Le persone si lamentano! Il cane non si può lamentare! Eh! Ma chi è che si lamentano? Il cane è peggiore! Mica vuol dire che è colpe per lei! Ma chi si permette di dire che è peggiore colpa mia? Eh! I pazienti sapesse le male lingue! Ma madonna queste male lingue! Tutti che parlano di me in questo paese! Che parlano male! Eh! Tutti parlano male! Per fortuna c'è chi parla bene! Ma una volta tanto mi dice che cosa dicono quelli che parlano bene? Io l'ho appena detto! No! Che cosa? Che dovrebbe fare il veterinario! Ah! Questi che parlano bene? Si! E quelli che parlano male che dicono? Mangecon! Che! Che!